Per prima cosa trova Dobransky, il caposquadro dell'acciaieria. Se non hai nei dintorni, vai nel suo ufficio per cercare documenti, fatture di trasporto o carte simili. Il carico di materiale biologico che ho trovato in Italia doveva raggiungere quest'acciaieria. Voglio scoprire per me. Zanisseteteci all'avventura! Ghiudkov vuole scegliere tutte le truppe! Mi rendo conto che non rientrava nella tua missione, ma dobbiamo aiutare quanti più operai possibile. Teresa, ci hanno confermato che questa era la destinazione prevista per il carico di Pescara. Usano questa acciaieria come riferimento per bruciare il bestiame contaminato. Hai ricevuto e raccolgo alcuni campioni. Il dottore potrebbe averne bisogno. Si! Grazie a tutti 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 Ottimo Grazie a tutti Cobra è un po'